adesso gira con jaguari tutti pensare buongiorno buongiorno mio turno arriva subito non funziona problema qua aspetta va bene porco cane ragazzi non sono crimineli io porco cane porco cane dove me la portate fermi qua dove sono qua io porco cane cosa sono questo lucio cosa ce la faccio qua porco cane e tu chi sei tu chi sei tu cosa ce la faccio qua io dottore il naso cosa naso naso abbiamo fatto fatto naso benissimo ma io sono arrivato a fare tapone qua per virus si fatto porco cane non mi serve più taponi doktore così non me la chiedere niente grazie dove è uscito am grenaar kam sbrit prejmanit kam punu me djers të balit jem na zemra e balkanit che entra a dì che entra a dì che entra a dì attra terrified che entra a dì lo o